Ti apri le glute, i motori del nostro corpo, vedi come non fa male, tutto rosso. Questa è bene forte, guardi cosa porta. L'ho detto da messa alzitacco, sopra la cervicale. E qui ti devi mettere il reggisparmio, io ti faccio il ventaglio di aprirte. Guardi commento, se vede bene lo facciamo per i mondiali di maratona. Sempre, ti prendo, ti credevo, ma dai, mi raccorgi. Doni questa gamba dentro, è solo poco, atti qua. Grazie mille. Con salute, pace, bene, amore e felicità a tutti. Voleci a tutti, siete sani, vivi e vegetali.